Ma chi mandi quei messaggi? C'è uno che mi tampina su Facebook e mi scrive continuamente. Del tipo? È uno che dice, ciao, come stai? Sei sexy, voglio ucciderti. Beh, denuncialo ai gestori. È molto, molto sexy. Vuoi vederlo? È Aston Kutcher. Pronto? Che parla? La versione più incazzata della persona con cui hai parlato prima. Scusa. Vaffanculo. Se riattacchi il telefono ti pianto un coltello in gola finché non sento l'osso. Ma chi è? È per te. La versione più incazzata della persona con cui hai parlato di più incazzata della persona con cui hai parlato di più. Grazie a tutti